Signore e signori, la 11.8 sta per arrivare, non solo include Gwen, questa patch che dovrebbe uscire il 15 di aprile, mi immagino, ma, ma, include anche una cosa molto, molto figa, quello che è un, non dico rework, ma diciamo degli aggiornamenti su molti degli oggetti da supporto, perché? Perché molti enchanter non vengono mai cagati, non vengono mai apprezzati molto, e di conseguenza si è resa conto qual è il modo migliore per rimediare la situazione, e nel cercare di bilanciare alcuni degli oggetti fondamentali dei supporti attorno al renderli più funzionali ed efficaci, vediamo che cosa succede, io incrocio l'idea, speriamo bene, ovviamente tutto quello che vedete di questo video non è la versione finale, questi sono soltanto i cambiamenti che per ora ci sono su BB e che sono quelli dichiarati come dovrebbero essere questi, ma poi, se vogliamo, li cambiamo, quindi cavoli vostri, non createvi enormi aspettative, alcuni sono potenzialmente già confermati adesso, altri abbiamo già visto la scorsa settimana come sono stati modificati pesantemente, come alcuni buff a certi campioni, però, oh, io ho messo le mani avanti, se poi non vedete le cose di cui vi parlo qua, non è colpa mia, è colpa di Riot, ora, immergiamoci. Allora, partiamo dagli item nerf, gli item nerf, gli item nerf li capisco anche perfettamente, il motivo per cui li abbiamo fatti, l'idra titanica è turbo insane, no, serio, Urgot diventava turbo, diventava proprio idiota Urgot, non aveva alcun senso di esistere Urgot a questo modo. Andare dal total HP a bonus HP lo rispinge più verso chi di base prende tanti HP perché vuole HP nella sua build e basta, non so se mi piace tantissimo questa cosa perché, ok, escluderlo a certi juggernaut, tipo Urgot, escluderlo a priori in questo modo non sono un grande fan, semplicemente lo spingi per, ok, devi andare usando per più HP e meno resistenze, oh nooo, nessuno è triste, non è che non faccia la differenza, da total HP a bonus HP è una grossa differenza, dovete considerare quindi, non considera più tutta la barra di HP, ma soltanto gli HP che voi acquistate dagli oggetti. Uno vede il numerino più grande e pensa che sia un miglioramento, no, è un grosso nerf, comunque va a ribilanciare molto i campioni attorno a questo, e lo capisco, hai bisogno di tantissimi HP ora perché funzioni come prima. Però è un po' un peccato. Gli Aioni e un Boots of Lucidity sono un po' strani come Boots da vedere a 9,50, sono gli unici Boots che avranno questo costo centrico a dir poco. Cioè, sarebbe stato sensato metterli anche a mille, però capisco perché 9,50, stai cercando di tenerli come acquisto iniziale per molti jungler, stai cercando di tenerlo come acquisto iniziale per tanti campioni, è comprensibile il perché abbiano scelto di tenerli su questo prezzo piuttosto che cambiarlo totalmente. Va a fare gli oggetti, ne vediamo soltanto uno, il Frozen Heart è ancora l'oggetto più malcagato in assoluto all'interno di League of Legends, da 70-80 armatura. Non è male come cambiamento, considerate che 15 di armatura li comprate con 300 gold, però non è neanche la roba più incredibile del mondo, dirò un mio Dio, wow. È ok, è tipo, ah, ok, conosco Sion e Chogat che lo prenderanno probabilmente, e basta. No, serio, sono così pochi campioni che hanno così tanti HP che di base non hanno bisogno di prendere oggetti di HP ma di armature senza magica, che il Frozen Heart purtroppo è limitato a quello. Finché il Frozen Heart ha solo armature nella sua build, purtroppo questo è inevitabile. Non esistono oggetti che ti danno solo una statistica e basta, e uno può dire sì, ti danno un po' di mal, ti danno un po' di ability haste, ok, stai solo restringendo il campo, non lo stai allargando. È questo il punto. È purtroppo un oggetto estremamente situazionale, e sono sempre triste a vedere Frozen Heart messo così una merda. Questi purtroppo li vedrete un pochino più in piccolo per un semplicissimo motivo, perché sono così lunghi i cambiamenti che non ci stanno se no. Allora, mi piace l'idea dell'annunzatore Newer, il fatto che tu vada a mettere fissa la cura piuttosto che scalare sul livello degli alleati, molto buono, a questo modo più che altro per quale motivo è così forte? Perché vai a limitarne l'utilizzo su quei campioni che vogliono davvero solo curare e basta, piuttosto che campioni come Lilia o campioni come Gragas, tipo perché dovrebbero stare lì a curare? Che cacchio, non è il loro lavoro curare. Ogni secondo che sei in combattimento la cura di base aumenta da 12,5% fino al 5%, diventa... Ogni secondo che sei in combattimento aumenta la tua heal and shield power del 4% fino al 20%. Ooooooh! Così vai a potenziare Gianna, vai a potenziare Nami, vai a potenziare Soraka, vai a potenziare Lulu, vai a potenziare Karma, tutti i campioni che vanno a scudare, che vanno a creare cure, adesso hanno un motivo per prendere la Munzo o il Newer. Perché prima lo guardavano e erano tipo, ok, faccio la stessa cosa di base, perché dovrei prendere questo oggetto? Non avevi motivo per farlo, letteralmente. Adesso ti va a potenziare cure e scudi, non solo la passiva mitica, ok, non ti dà più abiti, e il che ti rende molto triste, ma aumenta la cura dello Starly's Grace, cioè la passiva da Munzo o il Newer, che quando scudi o quando vengi un avversario vai a curare i tuoi alleati, aumenta di 10 di base la cura, e hai la sinergia con il 20% di heal e shield power, insomma, si concatenano tra di loro con gli altri oggetti da supporto, non è per niente male come idea, non è per niente male, io adoro questa idea di Riot, vediamo se funziona. Poi, è da vedere, magari i numeri cambiano ancora, potrebbe anche essere più forte o più debole, dipendentemente da come arriverà poi nella versione finale. Modificano pesantemente Azure Elias Battlesong, capisco anche l'idea di fondo sul perché modificarlo, era un oggetto diventato più offensivo che basato sull'utilità, adesso non ha più una versione, non ha più un'attiva, ma, ma, mi correggo, non ha più un'attiva offensiva, ma soltanto basata sull'utilità, dare velocità di movimento a tutti i propri compagni, in modo da poter ingaggiare o disingaggiare dipendentemente, non solo, nel momento in cui adesso tu vai a scudare o proteggere o potenziare, in qualsivoglia modo e forma, un alleato, gli vai a dare 25% di movement speed in un secondo e mezzo, sul PBE c'è una versione un po' diversa, è un po' strano, perché allora in una versione decadeva la velocità di movimento, in una versione invece non che decadeva, una era più alta ma decadeva, una era più piccola, vediamo la versione finale, secondo me sarà totalmente diversa. Passiva mitica invece ottiene 5 di Beatty Ace, quindi vai a dare la cooldown reduction all'oggetto per far kaitare meglio i tuoi alleati, l'MSI sarà così a di carry centrico con questa, se è con questa patch sono preoccupato, l'MSI sarà veramente tanto a di carry, penso che sia la 11.9 la patch dell'MSI, ho comunque paura, mamma mia, mamma mia. Staff Flowing Waters, rapide, dai 15 movement speed e 20-40p di power, vabbè, ecco, era quello vecchio, 20 di Ability Ace e 20-40 Ability Power. Non sono un grande fan di questa modifica, per quanto la movement speed sia qualcosa che era sbroccatissima prima, per campioni come Lilia, per campioni come qualsivoglia mago in corsia centrale che scali, dare 20 Ability Ace non è che non risolva il problema, semplicemente sposta il problema da certi campioni verso i supporti, o da mid laner che volevano essere degli enchanter a essere più opprimenti. Vedi Karma, vedi Seraphine, campioni di questo tipo che hanno accesso a uno stipendio, adesso sono tipo, ah, adesso do Ability Ace, non dai movement speed, quindi devi itemizzare verso la Shurelius Battlesong per avere movement speed. Però, cioè, non è roba da poco, mettiamola semplicemente così, mettiamola semplicemente così. Mi piace anche la modifica all'Extech Rocket Belt, meno vita e un pochino più penetrazione magica, grazie, abbiamo bisogno di quella penetrazione magica sui campioni che non hanno effettivamente accesso agli oggetti da penetrazione magica, la tempesta di Luden. Avere quei 6 magic penetration sembrano una cavolata, aiuteranno tantissimo certi maghi, Vladimir mi sta già terrorizzando gli incubi, per favore, non rompetelo, per favore. Il Kente Putrifier è così lunga, è così lunga, cioè, allora, quindi scudare o curare i tuoi alleati ti andrà a dare un potenziamento su autoattacchi e spell andando ad applicare ferite gravissime sugli avversari. Su prossimo attacco, le cure, gli scudi su un alleato, escluso se stessi, potenzierà sia te che l'alleato dandoti il potenziamento. Figo! Molto, molto figo. Mi viene detto, mi viene fatto subito un chiarimento, l'hardened sensor, lo staff of flowing water, minor modifications to reflect requirements of another ally. Ok. Quindi, ok, semplicemente viene, sono tutti costretti a utilizzare, cioè, sono tutti costretti a utilizzarlo come un alleato di oggetti. Sì, che quello là è semplicemente un, modifichiamo il tooltip per rendere più chiaro che, hey, questi oggetti servono un'altra persona per farli funzionare, non puoi usarli su te stesso. Comprensibile, però, mi sembrava abbastanza sensato. Semplicemente forse il tooltip l'ha modificato un minimo, però. Ma però, ma, perdonatemi, perdonatemi, è mattina anche per me. Champion nerf. Nerf. Enni ha il 53% di win rate. Poretta. Avevo letteralmente detto ieri, hey, Enni è molto forte attualmente. Ma perché no sto zinno? Mi sento un po' di colpa. Tipo, Poretta. 10 di mana in più sulla W non è la cosa più frustrante e pesante del mondo, però è tipo, dai! Che colpa ha? Ma per quale motivo? Per quale motivo? Almeno il nerf di Trash è motivato, nonostante i nerf è ancora molto forte, quindi aumentare il cooldown della sua è comprensibile. Vai a creare molto meno playmaking, hai molte meno occasioni per poter sferzare e fermare, di conseguenza, molti degli scatti e dei salti dei tuoi avversari. Comprensibile. Se sbagli quella cosa, se vieni punito pesantemente. La Mue Speed di Gnar, invece che decadere nell'arco di 3 secondi, decade sempre nell'arco di 3 secondi, ma si basa sul rank della R. Grazie. Grazie. Prima semplicemente era assurdamente alto. La Mue Speed della W è sempre stata veramente tanto alta su Gnar. Io dico, capisco che devi dare uno strumento di kiting, zio, ha già la Q, ha già la Q per poter rallentare, dargli anche Mue Speed forse era... L'ho sempre considerato il po' troppo che stroppia, cioè, se fosse dato un piccolo valore ci stava, non ho mai apprezzato quella parte del kit di Gnar, perché lo rende veramente difficile bilanciare tra Mega e Mini, e quindi, mettiamola così. Resistenze bonus di Orianna, che scendono per il singolo livello. questo è per rendere più approcciabile all'eaning phase in competitivo. Questo è letteralmente proprio competitive nerf, proprio fotti di Orianna in competitivo, basta 100% ad avere la pick and ban phase. Cioè, o la piccavi, o la bannavi. Non dovresti mai trovarti in questa situazione. Mai. Il motivo per cui lo facevi è perché in early game un singolo rank della E ti dava 500-600 gol di statistiche, quindi eri tipo, ok, grazie. Non proprio il massimo del divertimento. Facciamo così. Questo lo metto nelle patch notes, perché spiegarlo qua ci mette un quarto d'oro. Passiamo ai champion buff. Le blank e Lee Sin erano da un po' che non esistevano, molto semplicemente. Lee Sin in primis, Poretto, visto che... Ma non è Poretto lui, sono Poretto in tutti i jungler. La giungla attualmente è chi riesce a pulire più in fretta tutti i campi e arrivare al terzo minuto in una lane. Io, io, io. È una gara a chi pulisce più velocemente. È una questione di efficienza. Se non sei efficiente, rimani indietro. Poco da fare. È proprio inevitabile. È sempre stato questo il problema della giungla. O favorisci la giungla in cui sei quello che fa pochi danni su singoli bersagli, cioè, tanti danni su singoli bersagli o tanti danni ad area. Sono le due versini della giungla. Nel momento in cui viene favorita una piuttosto che un'altra, un'intera categoria di campioni muore. Proprio non esiste sulla faccia della terra. E questa è la cosa frustrante. Cioè, per quanto la Riot possa cercare di modificare la giungla, fare campioni, metterne di più per i giocatori all'Ouelo, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi viene da dire un cazzo. Cioè, io guardo e dico ok, hai buffato Lee Sin, congratulazioni. Due secondi meno sulla E. Sì, è molto bello, è molto figo. 90% delle persone non lo sapranno utilizzare correttamente questo nerf, questo buff. Ma poi vedete in competitivo e penso ah, sì, in competitivo già ce lo vedo Lee Sin a clearare quei dieci secondi più velocemente e di conseguenza poter arrivare allo scatto in tempo per il terzo minuto e paitare per quello o gankare. Yes! Sono proprio felice! Non perché... Non ce la faccio. La giungla non riesco... Non ci riesco. Solo a pensare alla giungla mi viene mal di testa. Mi dispiace per i jungler, davvero. Perché non c'è una soluzione al problema della giungla. La giungla dovrebbe essere reworkata da zero per far funzionare tanti campioni in giungla in maniera equilibrata tra tutti però vabbè, vabbè. Danno magico della Codile Blanc un po' di early game in più non le fa mai male visto che è messa così male mamma mia. Tanti assassini a P sono messi male. Non tutti, tanti. Eeeh, dovrebbe cambiare questa cosa. Prima che qualcuno lo chieda sì, ho saltato a pie pari a Felios perché tanto so già che tutti quei numeri non verranno inseriti in live non perché non quei numeri cioè sono quei numeri che non verranno inseriti in live non che non verranno inserite modifiche da Felios semplicemente su a Felios cambiano sempre tutti i numeri e quindi se vi metto qua a discutere sono dieci minuti in cui ci guardiamo e diciamo ah bene poi tutti quei numeri non ne vale nemmeno la pena chiacchierarne e uno dirà Lapo sei pigrissimo sì, a volte sono pigro incredibile evito lavoro inutile grrr parliamo di Zack Zack finalmente ha un clear questo invece è un buff di cui sono contento figa po Zack era inutile Zack era inutile Zack era letteralmente un minion che cazzo deve succedere in un mondo in cui Zack non può pulire la velocità della luce spoiler Zack fa schifo adesso non è male aver aggiunto dieci danni base è già buono poi il doppio dello scheme sulla P1 può dire che è una cavolata che non serve a nulla io non sono triste di vederlo invece questa modifica sono contento anzi molto molto contento un po' meno felice del buffo alla Eddie Cassiopeia visto che in competitivo visto che sta per arrivare l'MSI ricordiamo il 6 maggio inizia casato su PG Esports ovviamente visto che ci troviamo poi lì a dire wow un'altra Cassiopeia all'interno di questo torneo che divertente non sono mai stato un grande fan di Cassiopeia soprattutto per quello che è la sua natura ho mancato la Q bene non posso tardare ho colpito la Q ok ti uccido quasi è molto spegni accendi come campione non è il massimo divertimento come non lo è Vladimir vedere un buffo al cooldown della Q di Vladimir che è un quarto di secondo tolto ad ogni singolo rank finché non è un secondo intero all'ultimo rank è orribile è merda 4 secondi di cooldown sulla Q di Vladimir è malsano questo è il più grosso buff che potevano fare a Vladimir considerati gli oggetti che ci sono adesso i lucidity allora lucidity i cosmic drive sono già 60 di ability ace se mettiamo le rune sono 70 se mettiamo la trascendenza quella sì la trascendenza sì vabbè la metteresti comunque quindi 80 se mettiamo il frammento di rune sarebbero 88 e questi sono cosa due oggetti dai devi averne un terzo per avere l'attiva del cosmic drive quindi mettiamo non lo so si mettere una rocket belt ti da 10 ok sei a 90 di ability ace hai 45% di cdr con due oggetti e mezzo riot togliete la ability ace dalla trascendenza togliete la ability ace dalla trascendenza e 5 dai luciditi e 5 dal cosmic drive no è serio vladimir sarà un così grave problema all'inizio allora è come i baffa jinx i baffa jinx sono arrivati nessuno se li è cagati per due settimane arriva in competiti due settimane quattro settimane arriva in competiti oh mio dio ma jinx è sbroccato ma va ragazzi ma davvero chi l'avrebbe mai detto hello vladimir sarà un gigantesco problema e non vedo l'ora di non doverlo affrontare bannandolo faccio un discorso generico per tutti questi campioni visto che tanto sarebbe lo stesso discorso ripetuto diverse volte perché è una tematica unica tutte queste modifiche che vedete a questi campioni escludendo rumble perché rumble me lo voglio tenere proprio per per quando arriverà la patch live perché quello è turbo spicy allora allora no in verità dove ne parliamo perché è troppo figo rambo il nuovo il dio rambo il nuovo è veramente figo allora per questi in giungla per questi in giungla voi vedete sono tutti impanicati perché hanno visto clear di giungla due minuti e quarantuno su pipi e Darius sbroccato è già sceso da 500% a 300% il danno della passiva di Darius Darius era già stato buffato sulla passiva per poter clearare i campi in giungla più velocemente avevano messo un numero perché comunque i campi in giungla sono pesantemente diversi da quelli del passato non ha funzionato su PBE e arriva è sceso a 300% prima a 400% poi a 300% quando vedete dei grossi numeri su PBE dovete considerare che è il public beta environment vuol dire che cambiano le cose apposta per romperle così che cercano di capire qual è la versione giusta così che la gente può provarlo uno in anticipo e capire che cosa va e che cosa non va e vedere e sentire i feedback relax calma calma va tutto bene questi campioni sono baffati in giungla soltanto perché vogliono inserire più campioni disponibili per la giungla per giocatori che vorrebbero giocare magari degli assassini o magari vorrebbero giocare all'Oelo campioni che gli piacciono tanto come Darius come Mordekaiser non scherzo come Morgana ci sono veramente tanti giocatori che vorrebbero giocare Morgana Jungle come una volta Morgana una volta jungle Diana anche lei è molto divertente Zed non sono particolarmente d'accordo ma ora parliamo dei campioni importanti allora non posso allargarlo di più perché se no si rompe tutto e non leggete già così è piccolo quindi perdonatemi per quelli che sono da cellulare perché non hanno fare tipo così ok cosa c'è scritto qua ok la leggo tutta per esteso così che siamo a posto resistenza magica scende da 32,28 resistenza magica per livello scende da 1,25 a 0,75 danni bonus della passiva danni magici bonus della passiva scendono da 25,110 a 10,50 di base ma ci mettono cosa il 6% della vita massima del bersaglio oh rumble torna a essere un top laner per quale motivo questo è molto forte in top lane perché i campioni in top lane prendono tonnellate di hp e prendono tonnellate di schiaffi da questa nuova passiva per quale motivo perché rumble ottiene anche il 50% di attack speed nel momento in cui è surriscaldato cosa succede rumble può a tre stati la norma vicino al surriscaldato che la barra già all'arancione e poi quella rossa quella rossa è surriscaldato quella gialla è la danger zone quando le tue spell vengono potenziate e quella bianca che quando tipo ok va tutto bene tutto tranquillo la nuova E che è fighissima chiunque ha pensato questa cosa grazie avevano un'altra versione in cui semplicemente facevano una cosa diversa ma poco importa questa è anche più figa la nuova E riduce la resistenza magica del bersaglio di 10% per 4 secondi e si somma additivamente cosa significa questa cosa che se io colpisco due volte con la E il mio avversario quello perde il 20% di resistenza magica non solo nella danger zone questo danno è aumentato questo danno questa resistenza magica screddata sale a 15% si somma additivamente quindi tu puoi togliere il 30% della resistenza magica di un bersaglio per 4 secondi porca troia porca puttana questo questo riporta Rumble in carreggiata figa questo non è loro lo definiscono come adjustment per spingerlo in top lane puttana merda se è un adjustment questo porca troia il 30% di resistenza magica è tanto è veramente tanto sono sono un po' preoccupato è veramente tanto è rotto forse in competitivo mamma in competitivo quando lo giochere le messaglio lo giocano fisso se mantiene questi numeri lo giocano 100% è inevitabile è inevitabile è rotti mi viene voglia di giocarla a me che io non lo gioco da una vita perché ha sempre fatto cacare in top lane negli ultimi due anni e mezzo perché funziona meglio mid sincero questo è questo è sbagliato questo è sbagliato secondo me è veramente sbagliato questo ma vedremo signore e signori vedremo ci sarà del tempo per giudicare tutto questo voi che cosa ne pensate vi piacciono non vi piacciono magari non ci saranno nemmeno quando arriveranno sul server live però però avete avuto ora è il momento di staccare però noi ci vediamo al prossimo video e il momento di staccare e il momento di staccare e il momento di staccare